Un salto a piepari nella magia del presepe, una scuola che per un giorno cambia identità, si trasforma completamente in qualcos'altro con l'immenso stupore di grandi e piccoli. Benvenuti nel presepe dei bambini e quanto organizzato domenica dalla scuola sia infanzia che nido Mickey Mouse di Modica, una struttura che a stento è solo con ingresso a turni e è riuscita ad ospitare i tantissimi presenti sezioni che diventano botteghe, taverne e antiche abitazioni familiari, corridoi come strade e ciottolate dove è possibile trovare locandiere, il ricottaio, il suonatore di liuto, lavandaie e persino la piccola fioraia, tutto curato nei minimi dettagli e che ha preso vita con la partecipazione di bambini e genitori, poi gli animali, quelli veri forniti dalla fattorietta dei frigentini, capre, anatre, tacchini, gallire, piccoli cagnolini e anche conigli, tutti a portata di bimbo all'esterno della struttura. Una cura dei dettagli e dei particolari che ha reso un presepe qualcosa di ancora più magico con la partecipazione fianco a fianco di genitori e bambini uniti per qualche ora dallo stesso entusiasmo e dall'identica atmosfera natalizia, stesso discorso per la scena interamente incentrata sulla natività presentata in un luogo separato, lontano dalla vita e dai rumori cittadini e completamente avvolta di luce celestiale, perché come accennato erano i particolari, i dettagli a fare la differenza ma soprattutto a rendere qualcosa di già magico come un presepe, anche un'esperienza indimenticabile sia per grandi che per piccoli. È stato bello vedere gli occhi dei bambini, che sono la cosa più bella quando hanno visto la scuola trasformata, il loro ambiente dove loro vivono tutti i giorni, diventare la casa di Gesù. La casa che li accoglie ogni giorno ai bambini diventa la casa di Gesù. Noi qua abbiamo visto due ore, però quanto lavoro c'è dietro per realizzare questa serata? No, ma con la collaborazione di tutte le maestre e anche qualche genitore che ci ha aiutato è stato facilissimo, poi quando c'è la volontà si fa tutto. Non è mancato nulla, non è mancato neanche Babbo Natale, non è mancata neanche la neve, allora insomma com'è andata? Allora, secondo me è andata benissimo, siamo stati soddisfatti, i nostri bambini sono proprio entrati nella parte, hanno collaborato in tutto e per tutto, perché qualsiasi cosa voi qui vedete fatta, è stata fatta anche da loro, quindi noi ci abbiamo messo il cuore e loro pure. Alla fine chi ringraziare oltre voi stessi? Beh, oltre noi stessi intanto ringraziamo i bambini che hanno partecipato a questa, diciamo, questa iniziativa, a questa festa e poi ringraziamo la titolare che con la sua fantasia ci ha portato a rivivere comunque, a far rivivere anche ai bambini il preseve e quindi, e poi alle colleghe, siamo uno staff unito e questo è il risultato della nostra unione. Ed alla fine ecco che per qualche minuto a Bodica è arrivata anche la neve che ha accompagnato l'ingresso del tanto atteso e immancabile Babbo Natale. Canti e piccoli doni hanno chiuso una serata ricca di atmosfera e magia. Grazie a tutti.